ciao ragazzi buonasera buon pomeriggio per chi ci guarderà domani buongiorno in questo caldo torrido di agosto in toscana registriamo questo video con il mullà e marcello che sono carichi a mille marcello che sta soffrendo il caldo io uguale mullà uguale non se ne vuole più detto questo cos'è successo siamo tornati siamo tornati cos'è successo la vuelta in questi giorni è successo questo è successo facciamo vedere semplicemente delle immagini che spiega e ci parliamo sopra facciamo così ci parliamo sopra la prima tappa la prima tappa ha visto vincere il grandissimo roglic eccola qua cala il silenzio cala il silenzio cioè non c'è tanto da dire sulla crono di roglic era più scontata non lo so marcello campione olimpico posso dire una cosa sulla crono casco d'oro beh anche bernal non bernal scusa anche carapazzo casco d'oro la bici d'oro bellissima quella bici va beh al di là di questo la crono è stata bellissima perché sono partiti dalla cattedrale c'è una roba bellissima poi per il resto solito prologo una grande rottura di coglioni ha vinto il migliore basta povera ce l'ho sofferto il caldo ci saranno stati 900 gradi a burgos quindi tanto tanto solidarietà nei confronti di chi sta facendo la vuelta adesso tutti gli stacchi sono stati abbastanza insomma giusti a parte l'andria che va veramente con la bici con la graziella se fa le cronometri perché ha preso 40 secondi quasi 40 secondi ma vincerà la vuelta l'andria vincerà la vuelta l'andria allora per intanto dovrebbero eliminare l'ultima crono perché altrimenti prenderà 4-5 minuti al chilometro guarda poi mi spiegherò come vincerà la vuelta vediamo poi le tappe seconda tappa la vittoria di Jasper Philipsen attenzione su Jakobsen e Matthews Molano quarto e buono per ripeti Molano? per ripeti? quarto quarto Molano Molano quarto un grande Molano che secondo me poteva fare anche meglio solo che ha voluto fare lo sborone ha proprio è partito prestissimo come se fosse non lo so il Cipollini l'ultima mulata della sua carriera sai proprio da numero uno lui e poi è crollato negli ultimi 50 metri arrivo è stato Philipsen, Jakobsen, Matthews, Molano, Aramburo, Berasturi, Lass, Minali, Vermesh e Allegra io vorrei sottolineare il 14esimo posto di Arnaud Demare Moulat e Piazzano una delucida però è coerente con la stagione che sta facendo poi magari ci smentisce ma non va poi ne vince 16 poi ne vince 16 di tappa la vuelta poi ti ho detto magari ci smentisce quindi diciamo che Philipsen senza Cavendish probabilmente ha trovato il modo di vincere le tappe senza molto bene Cavendish Jakobsen se regge ti crede che sia tanto peggio di Philipsen? no no è un bel corridore ragazzi Philipsen un anno fa si era straccellato completamente parlando di uno io comunque Jakobsen è straccellato Jakobsen sì 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 lo vedo però comunque allora questa è stata la volata io direi che comunque è meritato Philipsen e Jakobsen secondo me si giocheranno tanti successi di tappa Moulat è un punto interrogativo Moulat è la mina vagante c'è da l'aspettare eh la mina vagante mi fa cadere tutti tappa di oggi ma perché Moulat non tira le volate a Trentin scusate no in realtà è l'opposto in realtà è l'opposto faranno un po' per uno lo so ma appunto ma perché lo poterà Moulat dai il fuoriclasse le tira magari quelle più difficili dai il fuoriclasse puro è lui è giusto è giusto però l'Alpesin perché ci tengo i miei capelli l'ho diventato in Bidda lo sciacquo perché non ci sono degli assardigli quindi va a capire sempre la seconda etapa dei grandi giri sì sì l'ha messo un posto oggi infatti per sottolineare questa cosa con Tim Merlier anche con Van Der Poel tutto all'inizio dei grandi giri comunque riescono riescono a vincere e far bene vabbè c'è da fargli merito per questo però ma Moulat lo sbaragli quando è che vinceranno una seconda etapa tappa di oggi c'è stata la fuga di questi corridori tra cui diciamo i principali da far notare sono Elisonde Tarramay Dombrowski e Kalmejan che sono questi quattro che poi sono rimasti sull'ultima salita a giocarsi la vittoria lì davanti ci ha provato Kalmejan poi Elisonde ha fatto un po' il furbetto e poi gli ultimi due a provarci sono stati prima Dombrowski e poi Tarramay che ha staccato tutti e anche il magro diceva si vedeva che Tarramay era il più fresco di tutti e infatti va a vincere guarda ti dedichiamo anche il tutto schermo solo per te Tarramay ecco le tappe più farloche ai grandi giri vince il giro di Gobert come il giro d'Italia come il giro d'Italia non mi ricordo neanche come si chiama TACO 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 esatto TACO come si chiama guardando l'ordine l'ordine d'arrivo di oggi ingrandiamolo un pochino ragazzi facciamo un commento però dai eh no allora commentiamo l'arrivo e poi commentiamo la nel senso io faccio un commento veloce io faccio un commento vai ragazzi il signore Elisonde oggi è andato in fuga perché le han detto vedi di fare qualcosa in questa volta perché il prossimo anno c'è Pellò della tua squadra quindi non ero per i coglioni e vai in fuga quest'anno nel prossimo anno tante belle cose ci abbiamo Pellò che va in fuga poi per il resto non c'è niente da commentare non c'è niente da commentare un commento sulla tappa di oggi posso fare voglio essere molto diplomatico a parte il vento contrario che sicuramente ha frenato un po' gli attacchi a parte eh attendismo paura scarsa condizione uno degli voglia di perdere la maglia uno degli arrivi più tristi in salita che io ricordi negli ultimi anni bello hai invogliato sei un'ottima cartolina per il turismo locale allora Taramai, Dombrowski, Lisonda e Calmejan erano i superstiti della fuga sono stati i superstiti della fuga poi Massa ha fatto uno scattino chiamiamolo inutile per tre secondi ma io dico se c'è le palle di scattare a cento metri dall'arrivo scatta un chilometro prova a fare qualcosa a un chilometro dall'arrivo perché ma è la Movistar perché è la Movistar perché loro non sanno gestire una squadra quindi non non si capiscono hanno fatto tirare a Valverde hanno fatto tirare a Valverde l'ultimo chilometro a tutto e poi è partito Massa e inspiegabilmente Lopez che inspiegabilmente sembra avere una buona gamba gli è andato dietro cioè praticamente ha cercato di ricucire il buco negli ultimi 50 metri tirandosi dietro comunque unica squadra unica squadra che mostra una condizione decente è la Movistar perché poi la Robic è rimasto solo abbandonato da Cus Cus vogliamo te l'ha consigliato Mulla Cus no non l'ho consigliato non l'ho messo no no non era nemmeno jolly era extra jolly capito cioè quando non ci chiedi neanche te sì dai è la mia provocazione dicevo già e comunque niente si è staccato subito e poi Robic è rimasto solo tutta la squadrona poi non vedo nessuno nei primi 20 della Gesic arriva stasera Gesic ma deluso anche anche la Ine ho visto una grande Bahrain una grande Bahrain che oltre a Landa ha piazzato il vincitore della Vuelta 2021 no no perché poi dopo è arrivato Mas Lopez Robic Yates Landa Ciccone Bernardo Valverde praticamente tutti lì Aru ha perso leggermente ma grande prova di Aru va benissimo subito dopo Lopez della Trek con De La Cruz quindi De La Cruz aveva fatto un po' Diavolo A4 inizialmente sulla salita però poi niente Diavolo A4 fatto un paio di scattini Gino Mader e Padun che hanno si tirato per per Landa però vedi sono arrivati lì sono arrivati lì a 10 secondi quindi non male Deludenti invece e qui andiamo sulle note deludenti abbiamo Carty che ha perso qualche secondo ci ha lasciato una ventina di secondi abbondanti e poi il fratello di Bardet come si era detto Bardet e Vlasov inaspettato Vlasov in parte inaspettato Vlasov ha lasciato 30 secondi oggi con i big 30 secondi iniziano ad essere importantini aveva fatto anche una prova anche Kuss e Vlasov aveva fatto una prova con un'ometra tra le altre cose quindi pensavo avessero avessero le gambe onestamente invece vedremo è molto presto perché la salita alla terza tappa arriva in salita secco così a volte tradisce però soprattutto Carapazzo il peggiore è Carapazzo Carapazzo ha fatto l'ultimo nome degno di nota è Carapazzo che è finito 38esimo a 2 minuti e 48 lui ha lasciato un minuto oggi arrivederci come disse come avevamo pronosticato ragazzi questo ha vinto l'Olimpiade e basta ha finito la sua stagione cioè ragazzi basta Carapazzo è lì che deve fare il Gregarione e lo fa mi chiedo perché li porti non lo farà il Gregari secondo me è probabilmente che si ritiri o vinca una tappa e poi si ritiri non lo so la domanda è sto accettando non te lo vedo il Gregario eccolo qui Mauri Vansemen 35esimo anche lui ha lasciato ha lasciato un po' ha lasciato un minuto cioè stiamo parlando di Carapazzo un campione olimpico e tu ci parli di Vansemen cioè non va mica bene anche lui ha agganciato all'ultimo insieme a Carapazzo e volevo vedere che fine aveva fatto eccolo qua è arrivato tre migliori scusa sì è arrivato una decina di secondi grandissimo e Tratnik c'è? c'è anche Tratnik? no no Tratnik no è caduto Tratnik è caduto è caduto Tratnik nel frattempo va benissimo su Tratnik è venuto giù qualcosa sì detto questo questa è la nuova classifica Taramai 25 secondi lisonde poi Roglic a 30 Kalmejan 35 Mas 45 quindi Roglic Mas Lopez 51 Valverde 57 Ciccone ottimo Ciccone ottimo Ciccone è ottimo ragazzi è andata bene è andata bene la protezione della Tratnik è stata un'ottima protezione Aru sono complimenti perché comunque cioè Aru 13 è stata la sua migliore prestazione dal Tour de France del 2018 cioè forse doveva pensare a smettere poi si è liberato ma oggi oggi c'era un bel articolo ragazzi oggi c'era un bel articolo non mi ricordo più su che sito web della pesantezza del ciclismo di quanto non riescono a reggere la pressione l'avevamo già parlato durante il Giro d'Italia anche durante il Tour de France tipo Cus sì guarda penso che facciano la giunta domani ci mettono anche Cus perché Cus ha pagato la pressione della Maia Poire sai era senza però questa Maia Poire e si è staccato praticamente dopo un chilometro imbarazzante c'erano le sale eoliche che l'hanno restritto c'erano le sale penso se vuoi descrivere un mezzo corridore nel buon termine mezzo corridore io penso che Cus rappresenta il mezzo corridore a questo punto è inevitabile va beh chiamiamo anche gli avvocati intanto per prepararsi il culo io sponsorizzato no ma il mezzo corridore è per per simpatia quel corridore che sembra 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 e poi e poi no va bene io dobbiamo anche sapere che eri dai via ti mandiamo allora no guardando Yates è a 1.21 perché ieri ha perso diversi secondi per la caduta che ha tagliato un po' il gruppo e quindi è rimasto dietro e e questi secondi magari le paga perché comunque ha già quasi un minuto da Robic guarda ti dico la verità comunque rispetto a quasi tutti quelli che ha davanti se li riprende perché oggi l'ho visto secondo me lui va anche meglio di Bernal è l'unico che ha veramente puntato la Vuelta come obiettivo l'avevamo visto un po' male nel diciamo nella preparazione però in realtà è quello che nella Vuelta ha messo l'obiettivo di stagione quindi era pazza 1.55 c'è da dire una cosa che la Ineos a sto punto già alla terza tappa ha delineato le gerarchie ma ha deluso perché io non ho visto tutti allora Pitcock è rimasto lì però non si è mai vista era lì davanti niente aveva una grande squadra c'è anche Sivakov non l'ho visto c'è anche Puccio c'è anche Puccio grande squadra dipende dal punto di vista però va bene se pensi che Pitcock e Sivakov non fa la differenza in salita in questo momento però un Sivakov lo metto lo metto sui piani di Gino Mater ad esempio a livello di carattere Meder 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 poteva arrivare a dove se non avesse avuto il Covid ci sarebbe stato Martini e ci sarebbe stata un'altra storia quello è vero quello è vero detto questo detto questo quindi gerarchie della Ineos già abbastanza delineate con Carapaz che a sto punto a meno che di di una giornata storta e basta ma come avevamo detto secondo noi non aveva la testa pur avendolo comprato un campionato ed è chiaro perché la scelta è obbligata mettiamoci nella testa di Carapaz cioè lui lo scorso anno ha fatto un super rinnovo contrattuale quest'anno gliel'hanno ritoccato con la vittoria alle Olimpiadi per i prossimi tre anni correrà con la bici più bella del mondo cioè per me può anche ritirarsi fra 20 minuti la Uelta o domani o domani vedete che un video registrato una tappa prova a vincere secondo me non mollerà non mollerà così è ovvio che non mollerà così Carapaz Carapaz qualcosa farà poi oggi guardando la tappa della Uelta facevo caso anche alle pubblicità c'è la pubblicità della Swift come si chiama non riesco a dirlo ma non è caduto Guy Thomas lì è stabile lì è stabile sui rulli sta in piedi non cade è un miracolo è una roba bellissima ah sai aspetta cosa volevo vedere aspetta 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 vediamo un attimo il pupillo Jay Vine che fine ha fatto oggi attenzione lascialo stare lascialo stare 155 gli hai portato merda non lo sapevo dagli tempo cosa sapete cosa dove fa la differenza oggi guarda lì ha preso 17 17 minuti ha preso nulla ma hai rovinato il pupillo si sta riposando ma hai rovinato il pupillo vediamo si riporta pedalando che è amico del maiale cioè seguo gli allenamenti del maiale è lunga ragazzi è lunga siamo calmi no comunque Blasov diciamo per ora deludente Jukarti deludente Carapaz deludente è vero stiamo parlando di tre giorni quindi con tutto tra parentesi e tra virgolette mettiamo però buone invece le prove degli italiani Ciccone e Aru per ora ma anche Bramillino ma anche Caruso cioè guardate che comunque noi siamo 14 però Bramillino e Caruso hanno le vesti di Gregari sì però però sono lì sono in bella condizione cioè dobbiamo anche far notare questo poi ti dico c'era una cosa che mi ha fatto girare abbastanza le scatole quanti erano in fuga oggi 14 8 quanti erano 2 numeri aiutatemi 8 ma è vero 8 e noi siamo 14 ma perché non c'è un italiano che è dato in fuga al di là di quelli che fanno i gregari ma Petilli per dire cioè ma vai con Taramai cioè hai un arrivo che ti si addice c'è riuscito aspettiamo un attimo aspettiamo qualche giorno prima di prima di ma noi non piattiamo mai un italiano in fuga al tour alla vuelta mai un italiano in fuga cioè ma anche lì Baggioli non è una tappa per te ma fatti vedere tanto chi devi sconciare Baggioli oggi invece ha ceduto lo so però buttati in fuga fatti vedere la maglia bianca così almeno ti riconosco un po' di più cioè non è una cosa stupida benedetti che non è italiano ma è di padre polacco come Caruso Paskowski cioè vattene anche te in fuga ma io non capisco cioè sono queste le cose che mi fanno già riscattare 69esimo a 5 e 54 Baggioli 69esimo ha ceduto c'era una maglia bianca Baggioli ha detto oggi voleva provare a tenere la maglia bianca e poi invece non ce l'ha fatta a reggere il ditto ma lo sapevamo purtroppo tutti noi sapevamo che l'avrebbe tenuta ma va bene anche lui viene comunque da un periodo di non forma eccellente Baggioli è stato fermo Baggioli è uno dei migliori che abbiamo secondo me sì ma a me piace Baggioli ma a me piace Baggioli un gran bel corridore però fatti vedere un attimino in fuga ma no sono esagitato fatti vedere un attimino in fuga anche se dire il vero i deconi in quick step in fuga non li ho mai visti però vabbè se è la loro prerogativa però vabbè è provato a tenere la maglia è andata male e ora ci andrà dai i prossimi giorni allora andiamo alla tappa la tappa di domani giusto per giusto per dare le informazioni nella tappa di domani che tappa è questa qui Marcello descrivicela boh ecco la parte è una tappa in cui schiatteranno di caldo faranno un asado pedalante unico boh sai che sono quelle tappe lì per gli spagnolacci che ti svuccherò fuori così secondo me è il momento è già subito il momento di una delle quattro squadre spagnole invitata una madrasata robe del genere no dai ci sta una ci sta una volata per gente come Matthews Trentino ma Matthews se le fa le volate eh appunto Trentino una volata un po' più difficile dai ci sta dopo una tappa un po' più mossa magari ci sta una volata dove arrivano domani oppure una volata come la Tessona dove arrivano? a Molina di Aragon mamma mia poverace domani saranno 900 gradi poverace domani è volata ragazzi domani è volata è volata bisogna vedere se sarà una volata proprio classica oppure un po' più un po' più selezionata diciamo magari qualcuno che potrebbe pagare però comunque è volata domani classica volata e domani ci sarà ci sarà di nuovo la sfida tra Jakobsen e e Philipsen credo con Molano dietro pronto a sorprendere vediamo e De Mar anche De Mar nella top 20 sì diciamo il quesito del giorno è così chiudiamo questo breve video sempre ricordandomi di mettere mi piace al canale per aiutarci e di donare soldi e di donare soldi e trovate il link per le donazioni di Paypal in descrizione iscrivetevi al canale e la domanda che vi facciamo è De Mar ce la farà a fare una top 10 ma ha fatto cazzo di caldo fa no no top 10 tu a che ora te esageri De Mar ce la farà come ha detto Marcello a fare top 20 no top 20 20 scusa no domani guarda che dura per lui vabbè diciamo secondo voi che top farà top 30 top 5 top 10 top 20 ci sono tante cipressine nella parte finale magari fa come la cipressa o ragazzi domani è una piccola Sanremo per Piazzano quindi domani il famoso mare dell'Aragona che non so cosa sia però no ma ragazzi ragazzi scusate scusate la domanda ma ma perché devi fare la vuelta per agosto cioè io proprio riusco vabbè ormai è uno stilicidio sì ma lo so ma è uno è uno stilicidio prima era un pochino più a settembre vero sì ma io me la ricordo ma scusate io mi ricordo che la vuelta ma ti parlo di 10 anni fa iniziava a fine agosto e comunque facevano le tappe tipo i prologhi a mezzanotte tipo una volta Siviglia che l'hanno fatto come se fosse un rave perché c'erano 900 gradi cioè adesso fa partire il 13 di agosto e muore di caldo cioè muore di caldo ma forse perché è una forza eliminazione sì chiediamo così ragazzi chiediamo così a parte il caldo che voto data la tappa di oggi da 0 a 10 che ricordiamo che è la terza tappa 0 moulin 3 piazzano e con questo ci salutiamo ciao ragazzi arrivederci grazie a tutti